Buon lunedì! Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioerà sempre di quello che sto per creare, poiché creo Gerusalemme per la gioia. E Dio che sta parlando? Queste parole che troviamo all'inizio della prima lettura di oggi ci ricordano una delle qualità principali di Dio, la creatività. Dio riesce a creare bellezza, vita, gioia, perdono, pace, anche là dove sembra prevalere il buio, il male, la disperazione, il peccato, lo scoraggiamento. Fermiamoci un momento oggi e chiediamoci quale zona della mia vita, quale ambito della mia esistenza ha bisogno di essere ricreato? Dove avverto che la mia vita è stagnante, ferma, pura in crisi, di conseguenza necessita di essere ricreata. Giusto ieri ricordavo a me, a voi, che quando ci accade di impantanarci, di metterci nei guai, di cadere nel peccato, non dobbiamo credere che non vi sia più via d'uscita, ma occorre guardare proprio verso Dio e chiedergli di salvarci, di tirarci fuori. E lui, ricordiamoci che lo fa sempre con creatività. Il suo amore infinito e sconfinato per noi lo porta ad inventarsene di ogni tipo. Si inventa di tutto, Dio, pur di aiutarci ad uscire dalle tenebre dell'esistenza nelle quali spesso ci infiliamo. Per cui ripeto questo, facciamoci questa domanda oggi. Dove avverto che la mia vita è ferma, stantia, impantanata, confusa? Cosa non va? Una volta individuato ciò che non va, non cediamo allo sconforto, allo scoraggiamento, alla lamentazione, al vittimismo, ma chiediamo a Dio di ispirarci e di aiutarci ad uscire con creatività da quella impasse, che sembra senza uscita. Invochiamo lo Spirito Santo, esempio, la parte più creativa della Trinità, affinché ci aiuti ad uscire proprio con creatività dalle brutture, dai falimenti, dai pantani, dalle crisi esistenziali. Dalle zone buie della vita, dai pantani esistenziali, non se ne esce da soli, ma solo chiedendo aiuto a Dio e alla sua creatività. Buon inizio di settimana a tutti.